Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata alla politica. Vi riferiamo in particolar modo dell'incontro promosso da destra e movimento a Gela, chiarito che il dibattito è in corso nel centro-destra sulle problematiche che attanagliano la città non può ridursi ad una lotta di poltrone o di cariche politiche. Vediamo. Quello a cui si esiste in questi giorni è una lotta continua per interessi personali, per raggiungere determinate cariche politiche senza tenere conto dei problemi gravi che Gela sta attraversando. La denuncia è dei rappresentanti della destra in movimento, tutti giovani e con assoluta decisione, affermano i componenti del movimento politico, che prendiamo le distanze dalla volontà di ridurre il dibattito cittadino ad una lotta di poltrone o di cariche politiche. Riteniamo oltraggioso nei confronti del popolo giolese partecipare a lotte di poltrone nell'interesse dei singoli e non dei tanti. Senza presunzione alcuna abbiamo deciso, si legge in una nota, in qualità dei cittadini di associarci al fine di interessarci e far interessare i cittadini alla cosa pubblica senza falsa retorica o velleità. Riguardo alle ultime notizie vogliamo puntualizzare continuano i componenti che l'unica leadership che riteniamo in dovere di riconoscere è quella rappresentata dal popolo giolese, entità sconosciuta a molti professionisti della politica. Nelle ultime settimane abbiamo continuato ad analizzare le reali priorità del territorio, dalla gravissima situazione del porto di Gela alle criticità in ambito sanitario, breast unit su tutte. E per questo concludono i rappresentanti dalla destra in movimento che scegliamo di mettere al primo posto i problemi di noi cittadini, prendendo le distanze da alleanze politiche preconfezionate perché si converga sulle idee e non sulle poltrone. Il MUOS, stazione di trasmissione militare americano di Niscemi, resta sotto sequestro. Lo ha stabilito il Tribunale di Caltagirone che ha rigettato una richiesta di dissequestro presentata dall'Avvocatura dello Stato su richiesta del Ministero della Difesa. Il giudice Cristina Lobue ha accolto le richieste di mantenimento dei sigilli, chieste invece dal procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera e dall'Avvocato Goffredo D'Antona, in rappresentanza dell'Associazione Antimafia Rita Tria. La richiesta del Ministero della Difesa era stata depositata dopo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, il 6 maggio scorso, ha di fatto chiuso la vicenda sulle autorizzazioni rilasciate dalla Regione, ritenendole legittime. Il Tribunale di Caltagirone ha ritenuto ininfluente la decisione del CGA sul piano penale e invece ancora valide le motivazioni per il sequestro disposto perché il MUOS è in un'area ambientale a inedificabilità assoluta. E adesso occupiamoci del ritorno nel carcere di Gela della Croceligna, realizzata dai detenuti. La Croceligna era stata portata in processione a Caltanissetta durante il giovedì santo dalla Congregazione San Filippo Neri Sacra Urna. Vediamo. La Croceligna, realizzata dai detenuti del carcere di Gela, fatto ritorno nella struttura penitenziaria di Contrada Balate, era stata portata in processione a Caltanissetta durante il giovedì santo dalla Congregazione San Filippo Neri Sacra Urna, presieduta da Francesco Russo. Il momento particolare, suggestivo è la realizzazione da parte dei detenuti di questa roce che l'abbiamo portato in giro per il giovedì santo a Caltanissetta dove migliaia e migliaia di persone hanno potuto vedere, valutare quello che queste persone hanno fatto per fuori, per essere presenti in questa manifestazione che è una delle più importanti della Sicilia. La messa in carcere è stata ufficiata da Don Giorgio Cilindrello. Che è necessario portare ognuno la propria croce quotidiana, tra l'altro un mezzo necessario per seguire Gesù, ce l'ha detto lui nel Vangelo, ce l'ha lasciato e stanno imparando qui dentro a scoprire intanto il valore redentivo della croce che illumina la croce individuale di ciascuno. E quindi diventa addirittura Pasqua, proprio come è scritto dietro di me, è Pasqua in ogni luogo. A Gela la congregazione locale è rappresentata da Rocco Mariscalco. Durante la cerimonia di riconsegna della croce sono stati regalati anche due tavoli da ping pong. L'obiettivo della congregazione è quello di realizzare all'interno del carcere gelese un campo di calcio per i detenuti. Certo sarà un po' difficile e arduo programmare questo, ma noi penso che ci riusciremo in quanto già qualche cosa l'abbiamo fatto. Il direttore Gabriella Di Franco. Il carcere di Gela promuove incontri, dibattiti, vogliamo essere anche un centro propulsore di nuove idee, insomma non ci vorremmo fermare. Mercoledì 8 giugno alle 18 si terrà la celebrazione del 199esimo annuale del corpo della polizia penitenziaria. Appuntamento presso l'istituto di pena di Contrada Balate a Gela. Incidente autonomo ieri sera in via Venezia a Gela, nei pressi dell'incrocio con via Ruggero VII, una giovane alla guida di una Fiat Panda, ha perso per cause ancora da accertare il controllo della sua macchina finendo sul marciapiede e spezzando anche un palo della segnaletica verticale. La ragazza è stata soccorsa dai volontari del 118 che l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale. L'attualità di Federico II di Svevia anche in cucina. Appuntamento al teatro comunale Eschilo nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Accademia Italiana della Cucina. Il convegno è stato patrocinato dall'amministrazione comunale e ha visto la partecipazione di numerosi delegati, oltre ad alcuni alunni dell'istituto alberghiero Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo. Federico II oltre ad essere un grande imperatore, lo stupor mundi detto, che amava attorniarsi di riletterati, filosofi, artisti, amava molto la cucina, amava mangiare, però nello stesso tempo anche se amava mangiare era molto parsimonioso perché sapeva contenersi e limitarsi. Era un grande cacciatore, amava la cacciagione. Relatori d'eccezione sono stati l'archeologa medievalista Salvina Fiorilla che ha offerto al pubblico una preziosa ricognizione sulla storia medievale di Gela fondata da Federico II. Il presidente del centro studi Federico II di Svevia di Enna Paola Rubino, che ha affrontato il tema culinario Il banchetto alla corte di Federico II di Svevia, luogo di confluenza di culture diverse di incontro-scambio, e Roberto Ariani, segretario generale dell'Accademia Italiana della Cucina. L'Accademia della Cucina è sempre lieta di poter sostenere i propri delegati e per quello sono venuto da Firenze proprio per portare la testimonianza della vicinanza dell'Accademia Italiana della Cucina alla delegazione di Gela, a tutte le delegazioni della Sicilia che oggi sono ben rappresentate da molti delegati e da due coordinatori. Questo è un territorio particolarmente vocato perché il primo trattato lo fece 400 anni prima di Cristo, a Archessa Toda della Gela, che ha dato il primo segnale di interesse particolare per questa alimentazione, che oggi ha avuto uno sviluppo straordinario grazie anche all'attività dell'Accademia Italiana della Cucina, che è l'unica istituzione culturale riconosciuta dello Stato italiano sull'argomento e che sta cercando con notevole spirito di sacrificio di questi volontari, perché noi siamo tutti volontari, di produrre una conoscenza sempre più ampia in Italia e nel mondo. I lavori coordinati dalla giornalista Rosa Battaglia si sono conclusi con la recita di un monologo tratto da Il Viaggio di Costanza, scritto e interpretato brillantemente dall'attrice ennese Elisa Di Dio. È stato denunciato per detenzione di droga sottoposta ad un controllo da parte degli agenti di polizia, trovato in possesso di un involucro di marijuana e di alcune stecchette di hashish per complessivi 3 grammi. Lo stupefacente era nascosto nella tasca dei pantaloni dell'uomo, destinatario del provvedimento, e un trentenne di niscemi. Adesso parliamo della festa di Maria Santissima Ausiliatrice a Gela. Vediamo. Non una semplice festa di regrestia, ma un coinvolgimento di numerosi fedeli. Gela ieri ha festeggiato la ricorrenza della Vergine Maria Ausiliatrice. Dopo una settimana dedicata alla festa liturgica, con appuntamenti in chiesa per i grineggi giubilari della misericordia, ieri c'è stata quella che i residenti del quartiere Giardinelli definiscono la festa esterna. Il simulacro della Madonna è stato portato in processione, accompagnato dalla banda musicale Francesco Renda. La festa, negli anni, ha assunto un forte valore simbolico che rappresenta la vita ecclesiale e il riscatto sociale della città, perché proprio in Maria la chiesa contempla l'immagine della nuova città che inizia il proprio riscatto dalle periferie esistenziali e culturali e lancia un messaggio di speranza a quanti provati dalla sofferenza non sanno più guardare con fiducia al futuro. In un momento, se difficile, sotto l'aspetto economico, la festa si è svolta regolarmente, senza però i fasti di una volta. Come presidente del quartiere stiamo facendo una grande manifestazione a scopo del comitato di quartiere. Non abbiamo noi contributo di nessuno ente. Qualcuno che ha uscito qualche 10 euro, anche 20, anche 30 euro, delle persone che principalmente tengono a questa festa di qua. Altra gente che non ha uscito soldi, le banderine purtroppo non ci sono arrivate, perché con i 50 centesimi che davano, noi non abbiamo bisogno di al 50 centesimi perché è una festa di quartiere. Questo comitato si è autotassato e si autotassa per tutti gli anni a questa è la quarta volta che noi facciamo la festa di Maria Ausiretrice. Il simulacro della Madonna ha fatto ritorno in chiesa intorno alle 23. Subito dopo si sono svolti i classici giochi pirotecnici. Nell'ambito del percorso di formazione continua del personale sanitario e al fine di offrire all'utenza le metodiche diagnostiche e terapeutiche contemplate dalle linee guida più recenti, elaborate dalle società scientifiche, l'unità di pediatria e neonatologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela sta organizzando con il patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e il corso di ventilazione non invasiva in pediatria. Appuntamento domani alle 8 presso l'auditorium dell'ospedale ed una parte pratica con simulazione che si terrà poi in reparto. Obiettivo del corso è l'inquadramento del paziente pediatrico con insufficienza respiratoria acuta e cronica e il trattamento con tecnica ventilatoria non invasiva. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il colonnello Giuseppe Pisano, direttore del centro DIA di Caltanissetta. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Un uomo amato, chiamato, inviato. Il tema di una mostra dedicata a Frarocco Quattrocchi che si tiene nei locali del salone parrocchiale della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Gela. In occasione del primo anniversario della scomparsa del sacerdote gelese la mostra ripercorre il cammino francescano di Frarocco Quattrocchi scomparso lo scorso anno a causa di un male incurabile. Attraverso l'esposizione allestita dalla parrocchia di Via Cappuccini di cui era sacerdote si vuole rendere omaggio alla figura del sacerdote tanto amato in città che sposando la regola francescana col sorriso e fino alla fine ha lottato per la vita accogliendo il dolore come una grazia. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 12 giugno prossimo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.00. Sogni e realtà fra palco e strada e la denominazione dello spettacolo organizzato dall'Associazione Concivenze è andato in scena venerdì scorso in piazza San Giacomo a Gela. Sono stati coinvolti numerosi giovani che si sono esibiti nel corso della serata alternandosi in vari momenti dedicati alla moda, alla danza e alla musica. Non sono mancati gli spazi dedicati ai più piccoli con laboratori creativi e animazione con marionette e cantastorie che hanno dato vita ai racconti legati alla tradizione locale. Soddisfatti gli organizzatori della serata Mirko Grasso, Conci Liardo e Beppe Quattrocchi che hanno dichiarato di essersi commossi per la presenza di un numeroso e coinvolto pubblico. Alla console ad animare la serata con la sua musica ci ha pensato il DJ gelese Graziano Lacognata. La serata è stata condotta da Lucio Gatto e Sofia Quattrocchi. L'obiettivo degli eventi organizzati dalla Conci Events come affermano gli stessi organizzatori è soprattutto un obiettivo sociale che tende al coinvolgimento di quanti più giovani possibile affinché possano impegnarsi in attività artistiche piuttosto che lasciare un vuoto nei loro momenti di svago. Un avviso pubblico rivolto ad enti pubblici, associazioni, comitati costituiti, fondazioni e istituzioni ecclesiastiche del territorio per predisporre il programma delle attività culturali ludico, ricreative e sportive da inserire nel cartellone delle manifestazioni del 2016 e quanto emanato dall'amministrazione comunale di Gela su iniziativa dell'assessore Eugenio Catani a caccia di progetti relativi ed attività di animazione, culturale, spettacolare, sportive e musicale. Le proposte progettuali dovranno comprendere oltre alla prestazione artistica, gli allestimenti e i servizi tecnici necessari in relativo coordinamento compreso l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'individuazione del sito e l'indicazione delle date di svolgimento delle attività. Il calendario definitivo sarà comunque stabilito dall'amministrazione comunale allo scopo di evitare sovrapposizione di date con altre manifestazioni. Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni che l'amministrazione comunale intenderà sostenere verrà offerto il supporto tecnico, logistico. I soggetti interessati potranno presentare istanza entro il prossimo 9 giugno. Sarà accreditato entro martedì lo stipendio di marzo dei 90 lavoratori degli asilo nido, dell'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap. A dare la notizia Pietro Biondi, capofila dell'ATI, l'associazione temporanea di impresa costituita dalla cooperativa La Città del Sole e Progetto Vita. Biondi ha così deciso di anticipare le somme in attesa del pagamento delle fatture da parte del Comune per sedare gli animi dei lavoratori in attesa di tre mensilità arretrate, pronti a proclamare lo stato di agitazione, a organizzare un sit-in di protesta dinnanzi a Palazzo del Carmine, così come annunciato qualche giorno addietro dai rappresentanti sindacali della CGL, CISL e FISA SCAR. Vogliamo portare un po' di serenità agli utenti, rassicurandoli sulla continuità dei servizi a loro erogati e sulla serenità che giustamente devono avere e non ci saranno problemi per il futuro. Per quello che ci riguarda solo da qualche minuto abbiamo finito di avere un colloquio molto sereno e molto fattivo con il signor Sindaco il quale mi ha assicurato e ci ha riassicurati tutti che ci sono delle problematiche di ordine tecnico e di cui si è impegnato a risolvere nel giro di qualche settimana. Riteniamo che il comune di Caltanisetta sia ancora uno dei pochi comuni credibili e come gestione amministrativa e soprattutto credibili da un punto di vista bancario. Le loro fatture e le nostre fatture vengono puntualmente anticipate e noi appunto questo ci consente di poter anticipare anche la mensilità di marzo che consentirebbe solo un leggero ritardo anche se chiaramente è sempre un ritardo sulla mensilità di aprile di 15 giorni che speriamo di agguandare proprio e metterci in linea nel più breve tempo possibile. Ci è stato garantito che avrebbe anticipato una mensilità quindi il mese di marzo abbiamo incontrato il Sindaco e la Sossore Pastorello per avere notizie riguardo le fatture che devono essere pagate a Lati ci ha riassicurato che siccome c'era una problematica esclusivamente tecnica entro il 15 di giugno saranno pagate in maniera regolare le fatture nei confronti della cooperativa per maggiore garanzia faremo un tavolo tecnico dove metteremo nero su bianco un verbale sia con la cooperativa in questo caso il capofila il dottore Piondi e l'amministrazione comunale per spatare tutte quelle controversie che ci sono ad oggi sul pagamento delle fatture. La Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Ministero della Gioventù presenta l'edizione 2016 di Campo Giovani aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di età compresa 3, 14 e 20 anni c'è tempo fino a mercoledì 8 giugno per consegnare la domanda di partecipazione online sul sito cri.it slash campogiovani2016 indicando Sicilia 2 Gela CL in fase di iscrizione è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci buon inizio settimana a tutti grazie a tutti